Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Mamma mia ragazzi, oh! Mamma mia ragazzi, oh! Ma che top sono arrivato al me... F***a non mi rendo un po' di coglioni perché vi giuro vi strappo la testa dalle spalle. No ma Kumba la pami per forza, non si è aggrappato il personaggio raga. Ma non... Ma mi ha fatto una Macumba per forza raga. Abbiamo constatato che non so volare. Cioè non puoi morire così. Non è normale questa cosa. Non è... non è una cosa... non è una cosa normale. E non è stato facile tenerla, però ero lucido. Pertanto sapevo di andare per terra. Sì, lo sai. Ah sì, quando è scoppiata la gomma ho detto adesso andiamo per terra. Quindi l'unica cosa che ho pensato è teniamola il più possibile, così quello dietro frena. Ma pensa a quelli dietro che cazzo hanno visto. E la lucidità che han tenuto pure loro per non fare un incidente a catena. In tangenziale. Un paio di notte penso. No no, erano le sette di sera. F4 Gio, dieci mesi. Bella Xyuder, sono dieci. Puoi salutare Isma. Ciao Faggio! Ciao Bello, grazie dei dieci! Saluto Isma! Ciao Isma! Ciao Isma! Ciao Isma! Ciao Isma! Ciao Isma! Ciao Isma! Che cosa?! Eeeh! 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 What?! No, aspetti un attimo. No Marosh. Marosh per cortis. Marosh gran pazzo alleluia alleluia Marosh pazzo per quel cazzo alleluia Marosh è impazzito completamente che è il motivo per cui ho smesso di mangiare i kebab non tutti però sono così le auguro una buona fortuna io sto bene grazie lei come sta invece l'acceleratore ok dovrei avere ancora il tuo numero Luca eventualmente aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo nooo aspetta una aspetta una aspetta un momento aspetta un momento aspetta un momento ma mi ha fatto una macumba la pami raga non ci sono corone in game per il momento non ne vedo neanche uno brillare si esatto minchi i fratelli Bausi ci hanno messo una vita ad uscire nello shop i fratelli Bausi più di un capitolo erano stati liccati due coroni buona esatto Luigi esatto io svernicerei raga voglio capire cosa mi costa sverniciare farla pink fluo e capire poi come andare avanti nel senso non lo so vi giuro non è una roba semplice da decidere 5 kill più win con corona eh prima chi l'ha andata sì non lo è per niente dai mi puoi rianimare grazie allora c'è un super ancora da salvare andiamo a salvarlo allora a sbrega a sbrega molto bene così e recuperiamo intanto anche questo super buongiorno Depi buongiorno Michele Caffi good morning anche io c'ho voglia di andare sul battle royale ragazzi c'ho voglia di andare a fare il nostro grinding di corone mi hanno distrutto è morta la reneged ma l'altro è andato questi stavano sono curioso di vedere i nomi renegade non si vedeva da un bel po' twisted motivo brutta storia non è rank ragazzi siamo in pubblica fake benda buongiorno sono le nonne porca banana non lo dica a me che quando penso alla mia nonna che grazie a dio sta bene porca miseria eh le nonne so preziose raga so preziose mi saluto al prof di fisica salve prof andiamo un zero giamburgerone sincero buongiorno Thomas Kempt buongiorno caro grazie luponese mi confermi che puoi operare mi sono spaventato perché mi ha chiamato una persona ma tutto ok andiamo ritorno in live anche su chip chop andiamo eh raga scusatemi non ero focus scusatemi stavo parlando al telefono non potevo la rona sta benissimo ma no no hai voglia hai fatto il colore dell'autobus no è sempre stato così ma io che cazzo devo fare è colpa degli abolici è colpa dei